Gigi a tutti ragazzi, sono Alien in versione straordinaria, era da un po' che non capitava e sembra che il sito ufficiale di Xbox, versione Stati Uniti, potrebbe aver rivelato indirettamente la data di uscita dell'espansione Lotta per la Vita. Massivo e Ubisoft non hanno confermato tutto questo, dunque prendiamo il tutto con le dovute precauzioni, non è una data certa al 100%, ma ho pensato che fosse comunque il caso di mostrarvi tutto questo. La data è 22 novembre su Xbox One e PC. Per quanto riguarda PlayStation 4 l'arrivo dell'espansione dovrebbe arrivare un mese dopo rispetto all'uscita su Xbox One e PC e in teoria dovrebbe essere l'ultima espansione con un mese di differita, l'ultima invece dopo di questa se ben ricordo dovrebbe uscire in contemporanea su tutte le piattaforme. Sempre frutto di speculazione a questo punto potremmo anche intendere l'uscita dell'aggiornamento 1.5 per tutte e tre le piattaforme, appunto il 22 novembre, se queste informazioni appunto dovessero essere confermate da fonti ufficiali. Ricordo dunque che l'aggiornamento 1.5 sarà gratuito per tutti, uscirà lo stesso giorno per tutte le piattaforme, quindi PlayStation 4 inclusa, e apporterà modifiche al mondo di gioco come l'inserimento della fascia di mondo 5 con nemici di livello 34 e l'innalzamento generale del livello equipaggiamento 2.56, più un nuovo set, bilanciamenti ad alcune armi come i fucile a pompa, focus sull'M870. Ora, tornando al leak, potrebbe essere potenzialmente vero per il semplice fatto che in genere Massive si prende una settimana di tempo dalla fine del PTS per preparare l'aggiornamento e lanciarlo sui server live, considerato appunto che, notizia fresca, il PTS su The Division finisce proprio domani, 14 novembre, facendo 2.2, le cose potrebbero corrispondere. Tra parentesi, oggi è riattivata la modalità lotta per la vita sul PTS, era stata disabilitata per far sì che si testasse la 1.5 più che altro, quindi per chi vuol provare ed è su PC, ha il PTS Season Pass, può tranquillamente farlo. Tutto qui ragazzi, update veloce veloce, io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Eren vi saluta, love and peace agenti!